C'è un appartamento scritto a passivo, è l'andare a bevelo. Lo prendi in affitto? E lei? Eri felice da piccola? Tieni qua, giochiamo! Tu non hai nome, io nemmeno, nessun nome. Qua dentro non ci sono nomi. Dai, mamma! Adesso guardiamoci soltanto. È bello non sapere niente uno dall'altro. Forse possiamo vedere senza toccarci. Sei ridicola, portate così. La caricatura di una portata. Potrei anche arrivare a capire l'universo. Ma non riuscirò mai a scoprire la verità su di te, mai. Montzie a tutti.